Torna il sorriso, ora comincia la risata perché praticamente il sorriso c'è stato la settimana scorsa, 15 giorni fa quindi la striscia positiva continua e deve continuare ancora perché non soltanto ci divertiamo qui non soltanto veramente stiamo vivendo uno spettacolo sublime, questo che è dei nostri ragazzi vedere non soltanto la tecnica ma vedere il comportamento, vedere il carattere dei nostri ragazzi è una soddisfazione che meritiamo. Abbiamo visto una grandissima partita contro una grandissima squadra come Livorno che ormai è una squadra che punta sempre al salto di categoria non solo aver vinto questa partita in questo modo perché abbiamo veramente vinto con grande merito con merito di tutti poi i ragazzi e anche in questa partita sono venuti fuori i nostri giovani che hanno dato un grandissimo contributo. Quindi questo progetto sta funzionando, io sono il primo ad esserne felice, questa volta faccio i complimenti veramente a tutti perché hanno voluto vincere questa partita probabilmente anche perché in campo la volta scorsa forse ci hanno anche un po' pestato come dire, quindi aver vinto con questa grinta e con questo scarto ribaltando anche la differenza canestri questo è veramente un grande risultato. Dobbiamo cercare di salvarsi prima possibile e credo che per una società neopromossa nella quarta categoria nazionale sia già un grande risultato. Con calma e con umiltà dobbiamo continuare a lavorare in questo modo una volta che saremo salvi poi vediamo quello che viene insomma, però da lì in poi è tutto buono.